Il dottor Mario Naldi Il dottor Mario Naldi è stato un protagonista importantissimo della sanità e della storia della sanità della nostra città e del nostro ospedale. Ricordarlo qui oggi assieme a coloro che hanno lavorato con lui, assieme a coloro che lo hanno conosciuto anche soltanto di nome o soltanto attraverso il ricordo dei professionisti che sono stati i suoi colleghi, significa riconoscere questa storia ma significa anche riconoscere la responsabilità che questa storia lascia a coloro che oggi conducono e lavorano all'interno di questo reparto. È un'emozione per me poterlo ricordare insieme ai colleghi con cui abbiamo condiviso tanti anni di lavoro. È una strada che sta attracciata dal dottor Naldi con insegnamento sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista umano. Il vedere continuare questo tipo di attività, soprattutto in forze giovani, in forze nuove, su cui ha tanto creduto e ha tanto lavorato per noi è motivo di emozione. Siamo vicini ovviamente anche ai familiari e ringraziamo per la loro presenza in questa giornata e l'associazione Respiro Vita che ha omaggiato una targa questo giorno importante di ricordo del dottor Naldi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.